Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale, i fatti del friulio occidentale in primo piano. In apertura la cronaca viveva in un albergo ad Arba e probabilmente si pagava la stanza con lo spaccio di stupefacenti. Un 32enne cittadino albanese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Spilimbergo. In camera aveva oltre un chilo di droga. Nella camera d'albergo dove soggiornava, ad Arba, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Spilimbergo, coadiuvati da una pattuglia del comando di Maniago, hanno trovato una ricca varietà di stupefacenti. Era lì che un 32enne cittadino albanese ma residente a Maniago, celibe e disoccupato, teneva oltre un chilo di marijuana, 51 grammi di Ashish, 22 grammi di eroine e un grammo e mezzo di cocaina. Oltre a una numerosa quantità di accessori utili alla suddivisione di quantitativi, quali coltelli, forbici e un bilancino, probabilmente per la sua attività di spaccio con la quale si finanziava il soggiorno in albergo. I controlli erano scattati su segnalazione della centrale operativa dei carabinieri di Spilimbergo. Le pattuglie avevano individuato l'uomo nella frazione di Colle poco prima delle 23 di mercoledì sera mentre si aggirava a piedi con fare sospetto. Dopo una prima perquisizione, visto il nervosismo del ragazzo e l'odore di stupefacente che emanava, i carabinieri hanno passato al setaccio la sua stanza d'hotel, scoprendo la notevole quantità di droga detenuta. Alla luce dei fatti, il 32enne con precedenti è stato arrestato e portato nel carcere di Pordenone. Passiamo all'economia. Oggi si è svolto il referendum all'Electrolux di Porcia sulla nuova piattaforma per il contratto integrativo dei dipendenti. Chiesto un aumento di 1300 euro, modulazione di orario e più attenzione agli ambienti di lavoro. I risultati sono attesi per domani. Giornata di consultazioni all'Electrolux. Nello stabilimento di Porcia i lavoratori sono chiamati ad approvare l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo 2020-2022 attraverso un referendum. L'affluenza è regolare come sempre, non ci sono problemi per quanto riguarda la partecipazione degli operai. Gli impiegati come sempre sono un po' più distanti, quindi è più difficile capire quale sarà la percentuale che decide di sottoporre il suo giudizio. Nella giornata di ieri invece si è tenuta l'assemblea durante la quale sono stati esposti i contenuti della proposta approvata all'unanimità dal coordinamento nazionale FIM-FIOM-WILM. Abbiamo discusso della nostra proposta per rinnovare il contratto integrativo che era fermo dal 2007 e abbiamo esposto quali sono le richieste che andremo a fare l'azienda. Chiediamo che ci sia un consolidamento dei risultati che abbiamo sempre garantiti, circa 415 euro e un ulteriore aumento di 1300 euro che dovrebbero essere legati ai risultati e agli obiettivi che l'azienda si prefigge. Al centro delle richieste non ci sono solamente gli aspetti economici. Punto principale è un maggior impegno dell'azienda sul fronte della formazione, ma non solo. Nel nostro stabilimento si stanno vivendo le escursioni termiche eccessive. Chiediamo all'azienda che ci sia un impegno per climatizzare la fabbrica. Oltre a quello c'è la questione dell'orario di lavoro. Per noi è importante nel momento in cui la nostra età aumenta e chiediamo quindi ci sia la possibilità per i lavoratori che decidono di ridurre l'orario di lavoro. E c'è anche Electrolux nel progetto di apprendistato duale che è stato promosso da ADECO e dall'Ipsia di Sacile che ha coinvolto 15 studenti che passeranno due giorni in azienda e tre sui banchi di scuola. Un'esperienza che garantisce agli studenti di entrare nel mondo del lavoro due giorni alla settimana andando a scuola negli altri tre. Si tratta del progetto di apprendistato duale avviato per la prima volta nel fluo occidentale da ADECO, società specializzata di ADECO Group, assieme all'Ipsia di Sacile, Pietro della Valentina. Un percorso strutturato con una formazione in azienda che vedrà coinvolti 15 studenti fino a giugno 2021 in 11 aziende. Il ragazzo intraprende un percorso di assunzione di lavoro subordinato tradizionale dove lo vede impegnato all'interno dell'azienda per due giorni alla settimana, quindi lunedì e martedì lavora in azienda, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato va a scuola. Queste due giornate gli vengono retribuite. La scuola ha aderito con entusiasmo. Il fatto che i ragazzi possano fare un'esperienza importante di lavoro in un'azienda è fondamentale non soltanto perché i ragazzi hanno la possibilità di acquisire delle competenze che la scuola non può dare. Pensiamo ai macchinari, pensiamo ai software, per esempio. Poi c'è anche un altro aspetto molto importante, oltre a quello della formazione, che è anche la formazione umana. E gli studenti dimostrano di apprezzare. Lavoro all'Electrolux su Zegana, mi sto trovando bene e ho il compito di aiuto manutentore, seguo i manutentori più esperti e loro mi spiegano il funzionamento di macchinari vari. Io imparo facendo piccoli lavori. Dalla multinazionale al piccolo artigiano anche le aziende con l'apprendistato duale hanno un'arma in più. Abbiamo aderito a questa iniziativa perché crediamo tantissimo nel formare le nuove generazioni ai reali mestieri che abbiamo. Abbiamo bisogno di investire nei ragazzi creando delle professionalità che siano utili al business che facciamo e che pratichiamo. La politica si ingrossano le file di Fratelli d'Italia a livello provinciale con l'ingresso nel partito di Giorgia Meloni da parte di Davide Andretta, attuale sindaco di Pravisdomini. Da sempre legato al centro-destra è entrato in comune con una lista civica legata alla Lega, ma ha deciso di cambiare. A dare il benvenuto al primo cittadino sono stati il capogruppo in Senato Luca Ciriani, il consigliere regionale Alessandro Basso e il coordinatore provinciale Emanuele Loperfido. Ancora in tema di politica c'è un sostenitore inaspettato per le sardine che si preparano a manifestare a Monfalcone. Si tratta di Vittorio Sgarbi presente a Pordenone, il quale vede nel movimento una sfaccettatura politica particolare. Le sardine del Friuli Venezia Giulia che si preparano a manifestare sabato a Monfalcone trovano il sostegno anche di Vittorio Sgarbi, deputato del gruppo misto alla Camera e volto popolare dei talk show politici. Ma il suo è un appoggio di simpatia non tanto per l'opposizione a Salvini e alla Lega, ma per un motivo un po' diverso. Le sardine le vedo come un movimento che è pieno di buona volontà perché il passaggio successivo, quello di Renzi, per distruggere il PD, partito disperato, partito disperso, cioè se un partito che si chiama PD deve far fare la piazza alle sardine, il partito è messo male, le sardine sono messe bene, quindi è un ulteriore dispiace perché era un bel partito il PD, aveva una sua gloria, una sua storia e invece le sardine hanno preso il suo posto. Pedriga dice che è particolare che ci sia un movimento di piazza contro l'opposizione, in genere si fa contro il governo. Sì, è una bella definizione, la sentivo anche l'altro giorno, sì, perché si sente però che la Lega è il partito più forte, quindi è vero che non è al governo, però ha l'autorità per andarci e quindi per evitare che questo accada, perché in Italia deve governare chi perde, è una regola ormai, chi perde governa, ma per evitare che chi vince governa è bene fare l'opposizione all'opposizione, quindi ha ragione Pedriga, però le sardine sono, io le farei andare avanti, perché più fanno piazze meno le fa il PD e siccome dovrebbe essere il PD il partito che è in gioco, almeno nelle elezioni in Emilia Romagna, è abbastanza inquietante, quindi io sono favorevolissimo le sardine. Esgarbi era in città per raccogliere un quadro di livello mondiale giunto oggi in Friuli da Napoli per la mostra Il Rinascimento di Pordenone, si tratta del ritratto di Galeazzo San Vitale, opera del Perugino e a breve partirà anche la rassegna virtuale con le opere del De Sacchis presenti nelle chiese del territorio. Il ritratto di Galeazzo San Vitale, opera del Parmigianino del 1524, da oggi è in esposizione alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone. Il dipinto, un olio su tela, è arrivato in prestito dal Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli. Un pezzo che contribuisce a rendere ancora di maggior spessore la mostra Il Rinascimento di Pordenone, visibile fino al 2 febbraio e che è stato accolto da Vittorio Sgarbi, curatore assieme a Caterina Furlan. Il capolavoro assoluto, assicurato, richiesto per 50 milioni di euro, poi fortunatamente un po' diminuiti dal museo. È stato faticoso averlo, ma era importante che ci fosse. Adesso si attende un ultimo tassello, un dipinto del Tiziano. Intanto dall'8 dicembre in Galleria Henri Bertoia partirà la Pordenone Experience, una mostra multimediale curata da Fulvio De Lagnese, dedicata alle opere di Giovanni Antonio De Sacchis che si trovano nelle chiese del territorio, da Spilimbergo a Pinzano. I capolavori saranno visibili a 360 gradi con installazioni virtuali create da Fordodo sulle foto scattate da Michele Battistuzzi. Non solo visione della grandezza di quest'artista, ma anche quella che vuole rappresentare proprio un patrimonio che viene digitalizzato in alta definizione e messo a disposizione dei posteri. Anche se il professor Sgarbi non piace, diciamo, il titolo. Quando tu fai una mostra Monet Experience, Van Gogh Experience, intendi con quella parola experience, fai un'esperienza dello spirito ma le opere non ci sono. Quindi è diminutivo anche per loro perché fa pensare che non ci sia la mostra, che non ci sia la mostra delle cose reali. Per cui va cambiato anche questo, corretto, per restituire a questa bella esperienza di vedere tutte insieme le opere fotografate, la possibilità poi di fare il percorso l'itinerario che in un giorno, in un giorno e mezzo si può fare, insomma, no? Voltiamo pagina, è un momento d'oro per comprare casa anche se non è sempre facile trovare quella giusta e in città è anche boom degli affitti aumentati di circa 50-100 euro al mese quanto emerso durante la presentazione del borsino immobiliare di Fima Confcommercio. Un ottimo momento per acquistare casa in Friuli occidentale. A dirlo è Stefano Medici, presidente provinciale della Fima Confcommercio, che ha presentato a Palazzo Monteriale Mantica la ventunesima edizione del borsino immobiliare. Tuttavia, trovare sul mercato l'abitazione dei sogni non è cosa semplice. Il mercato continua a dare segnali positivi. Diciamo che il clima è ideale per l'acquisto della casa. Parliamo di tassi di interesse minimi, prezzi minimi storici, agevolazioni per le ristrutturazioni e cedolare secca al 10% sul canale convenzionato ovviamente creano un clima ideale. C'è poca coerenza tra domanda e offerta. A fronte di una domanda comunque importante manca la tipologia di prodotto più richiesto che sono gli immobili recenti con un buon efficientamento energetico e in contesti condominali particolarmente interessanti con corrette manutenzioni. Gli immobili maggiormente presenti sul mercato sono sostanzialmente gli immobili con una vetusta più importante, quindi parliamo di immobili edificati tra gli anni 50 e gli anni 80, spesso con problematiche di natura condominiale. Naturalmente sul territorio ci sono zone e comuni più apprezzati di altri. Continua ad essere apprezzato l'interno ring, quindi il centro, il centro storico e poi uscendo dal centro vengono richieste la zona di Rorai e la zona di Torre. Uscendo dal territorio comunale le più richieste continuano a essere Roveredo, Porcia, Sacile ed anche Cordenonso e Fontana Fredda stanno dando dei buoni segnali. E boom infine degli affitti che sono cresciuti anche di 50-100 euro al mese. C'è una richiesta molto elevata di alloggi e non ce ne sono nella realtà dei fatti sul mercato di disponibili e quei pochi che ci sono spesso non sono in condizioni locative adeguate rispetto a quella che è la richiesta. Il trend è di crescita dei canoni, 50 euro in più, in alcuni casi anche i 100 euro in più vengono richiesti e vengono pagati a E in tema di commercio sono 50 i negozi di Pordenone che hanno aderito all'iniziativa promossa dall'Associazione Sviluppo e Territorio per il Black Friday. Tre giorni di sconti da domani fino a domenica, giorno in cui i negozi resteranno aperti. Era questa l'ultima notizia per stasera, dopo di noi l'appuntamento con Friul Economy. L'appuntamento invece col telegiornale di Pordenone per domani sempre alle 20.45. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.